Assessore Barile, siamo agli sgoccioli della partenza di un convoglio importante, quello di Termoli per l'Ucraina. Sì, oramai possiamo dire di essere agli sgoccioli. Tutto il lavoro svolto dalle associazioni di protezione civile del territorio, in collaborazione col Comune, con padre Enzo Ronzitti che ha dato un manforte nella strutturazione di questa nostra iniziativa, oramai sta per volgere al termine. Abbiamo già trasportato, sempre grazie all'ausilio delle associazioni di volontariato, tutti i beni raccolti, impedanati, giù nel capannone sito al nucleo industriale, capannone di proprietà del Comune di Termoli, da dove partirà naturalmente il convoglio diretto a Oczuf in Polonia. Da lì poi naturalmente verranno smistati i beni a seconda delle necessità che il territorio di Oczuf ha, in sostanza. Questo è un po' il succo del discorso. Destinati chiaramente ai profughi? Destinati naturalmente ai profughi della guerra in Ucraina, che sia chiaro. Naturalmente tenete conto che Oczuf ospita già di per sé diversi sfollati della guerra, quindi di buona parte sicuramente saranno beni che andranno al loro beneficio. Poi probabilmente ci sarà una parte di questi beni che verranno trasferiti direttamente in Ucraina, nelle zone più colpite dalla guerra. Di che volume stiamo parlando? Parliamo di circa 22 tonnellate di carico, che è il massimo carico che naturalmente si può trasportare fuori dai confini italiani. Quindi è una raccolta che si può dire considerevole? Una raccolta assolutamente considerevole, che ha visto attori, un attimino tutti i cittadini termolesi, che come al solito hanno risposto in maniera puntuale a quella che è stata la raccolta beni indetta dal Comune in collaborazione con le associazioni di protezione civile. Tanto è stato il materiale dai beni di prima necessità, quali acqua, latte, pasta, scatolame, così come medicinali, così come anche abbigliamento. Insomma, veramente è stata fatta una raccolta a largo spettro che ha fatto sì di poter far fronte a tutte quelle che sono le necessità che purtroppo gli sfollati hanno in questo critico momento. Ci sarà anche un successivo momento di raccolta? Al momento non lo posso confermare per il semplice fatto che tutto ciò che noi abbiamo coordinato, l'abbiamo coordinato naturalmente con la cabina di regia di Ociuf, quindi il sindaco di Ociuf è il nostro referente ed è colui che naturalmente ci fa le richieste del materiale. Quindi qualora loro dovessero esprimere eventualmente la necessità di acquisire ulteriori beni, sì, saremo pronti comunque ad avviare eventualmente un'altra raccolta beni da mettere a disposizione delle persone che in questo momento stanno soffrendo questo veramente momento drammatico.